ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video in questo video andremo a crearci un ambiente professionale per hacking etico e penetration testing su kali linux circa un anno fa avevamo già fatto una personalizzazione però riguardava parrot anche se poteva essere fatta anche su kali ed è questa qui abbiamo sette video dove otto scusate dove andiamo a personalizzare totalmente da zero e totalmente in modo manuale il nostro ambiente di lavoro poi alla fine ho fatto anche un video di tre ore e 44 che sono tutti gli otto insieme per chi preferisce vederlo unito in questo video abbiamo imparato moltissimo chi è riuscito a farlo chi si è messo a farlo e gli è scoppiata la testa non sapendolo mentre gli scoppiava la testa stava imparando a bestia ma se ne renderà conto ora che succede che sono passati alcuni mesi alcuni anni e molte dipendenze non ci sono più molte repositorie di kitab non sono più disponibili o non aggiornate quindi questa di questo tipo di configurazione inizia a dare problemi pertanto ho deciso di farne un'altra e questa volta di farla per calli linux ma questa volta la faremo in una maniera differente la faremo in una maniera automatizzata questa per la gioia di molti di voi che mi hanno scritto perché molte persone mi hanno scritto sai io non ho tanto tempo non posso stare 89 ore a fare la personalizzazione perché anche se il video di tre ore e mezza naturalmente chi non non ha nessuna esperienza ci mette molto di più quindi mi dicono mi dicono non ho tot ore o tot tempo da dedicare alla personalizzazione vorrei un qualcosa di più veloce e rapido che comunque mi dia un ambiente professionale o un ambiente come quello che usi tu quando fai video bene questo è quello che faremo oggi in questo video partiamo dallo zero partiamo da zero perché questo è quello che faccio sempre in ogni video e questo è quello che vorrei vedere quando io guardo un video quindi andiamo su cali.org e andiamo a fare download per scaricarci la versione di cali quale scaricare beh lavoreremo con macchine virtuali qui abbiamo un installer image e poi abbiamo un virtual machine ed è questo quello che ci interessa una volta entrati vediamo che ci sono quattro tipi di virtual machine solitamente voi utilizzerete o virtual box o vmware io utilizzo vmware quindi vado a cliccare qui e comincio ai download una volta che avete scaricato il file avrete sicuramente un file compresso che andrete a decomprimere e avrete questa cartella in questa cartella avrete tutti questi file dovrete semplicemente andare a cliccare su questo fate doppio clic e in automatico vmware vi crea un immagine come vedete qui io ho già delle dei sistemi operativi delle delle distribuzioni come parrot cali red yellow xfc e che l'avete già visto e adesso mi ha creato questo cali linux 2024.1 primo passo importantissimo andare a fare i settaggi della nostra macchina virtuale andiamo su settings e dobbiamo andare a cambiare qualche cosina questa nella memoria sicuramente voi avrete 8 4 io la porto a 16 la porta 16 perché sicuramente è molto più fluido ma io posso portarla a 16 perché perché ho 32 giga di memoria disponibile ricordatevi sempre che la memoria che date alla macchina virtuale deve essere bilanciata con la memoria che avete nella macchina host è naturale che se ci avete 8 giga in etate 4 cioè cercate sempre di dargli la metà per quanto riguarda i processori io vorrei andare a dargliene 8 quindi facciamo un 4 di processori e 2 di course per quanto riguarda l'hard disk io gli do 80 giga ma già 25 andranno benissimo perché voglio dire questa non è una distribuzione di un sistema operativo che utilizzerete tutti i giorni utilizzate semplicemente per il penetration testing e per l'hacking quindi non avete bisogno di chissà quale memoria e poi potete comunque successivamente andare ad ampliarla una volta fatto questo avviamo la macchina mi diamo ok gli diamo la password e l'username di default che cali cali e stiamo dentro questo è come si presenta la versione 2000 24.1 come vedete abbiamo delle cartelle abbiamo un menu in alto possiamo fare tasto destro eccetera eccetera ora al di fuori del dello sfondo che direi che non è niente male tutto il resto purtroppo secondo me è da buttare come potete vedere l'immagine un po scratchata ossia di default mi ha messo il monitor scratchato questo lo possiamo andare a modificare su edit andiamo su preference e andiamo su display qui ci dovrebbe essere l'opzione di scratch no non c'è allora se qui non c'è possiamo tranquillamente andare a spengere la macchina virtuale e andarcene su wmware ce ne andiamo qui vedete dove c'è display ed eccolo qua display scaling scratch mode andiamo a togliere lo scratch mode facciamo ok e riavviamo cali ora dovrebbe andare bene infatti già vedete anche il menu non è più scratchato ecco qua perfetto mettiamo le credenziali e adesso abbiamo le giuste proporzioni primissimi due passi importantissimi aggiornare il sistema e dopo di che fare uno screenshot fare uno snapshot ossia salvarlo quindi ci apriamo la console questo lo ingrandiamo un po e gli andiamo a dare un sudo apt e qui attenzione nasce il primo problema almeno per me naturalmente il layout tastiera di default è uk e usa mentre io invece ho una tastiera spagnola voi suppongo ce l'avete italiana dunque c'è un comando rapido che è questo set x kb map dopodiché gli si dà la nazione voi potete mettere it io metto es dandogli questo comando adesso se vado a fare il trattino me lo da ossia mi fa il layout della tastiera corretto per la tastiera che io ok detto questo facciamo un sudo apt get update e gli diamo un meno y per dirgli yes a qualsiasi domanda che ci fa gli diamo la password e gli facciamo fare i suoi lavori non dovrebbe essere molto lento su questo lo sarà sull'upgrade ma lì poi tagliamo il video ok qui è già finito facciamo la stessa cosa e dopo gli diamo però upgrade facciamo enter e lui parte questo ci metterà un pochino quindi ci vediamo quando ha finito ok ha terminato l'aggiornamento e come abbiamo detto prima la seconda cosa importantissima da fare è andarci a fare uno snapshot andiamo a salvarci lo snapshot magari lo chiamiamo cali aggiornato perché questo perché magari durante l'installazione di queste due personalizzazioni si possono creare dei problemi degli errori quindi con lo snapshot abbiamo la possibilità di tornare a questo stato della macchina quindi gli diamo un reboot in modo tale che lui fa effettivamente lo snapshot rimettiamo le credenziali di default per rientrare e risiamo qui adesso andiamo a dare un'occhiata a quello che andremo a fare oggi ossia come andremo a trasformare il nostro kali linux di default in una personalizzazione professionale dunque questo è uno di i depositori che andremo a utilizzare ne andremo a utilizzare due entrambi sono di due ragazzi spagnoli che hanno fatto un lavoro eccellente il primo si chiama zl cube ed è questo qui questa repository che vi lascerò in descrizione insieme all'altra ci mostra intanto un'anteprima di quello che dobbiamo andare a fare per fare l'installazione e dopo di che successivamente in fondo ci mostra la possibilità di andare a cambiare vari temi una volta installato vedete c'è questo primo zl cube c'è questo tema parrot team c'è il tema pacman il tema pink e il tema savi di savitar quindi questa configurazione ci dà la possibilità non solo di avere un ambiente professionale di avere short cut e tutto quanto che dopo andremo a vedere nel in dettaglio tutti i cambiamenti che ci saranno strutturali al nostro kali e tutti i tipi di tasti che avremo ma ci dà anche la possibilità di andare a sceglierci e a cambiare ogni volta che vogliamo diciamo l'interfaccia grafica che utilizziamo su kali poi andremo a fare una seconda configurazione che è del secondo ragazzo che vi dicevo che adesso andiamo a vedere che è the good hacker anche questa è un'altra eccellente configurazione dove però possiamo andare a vedere che per esempio la barra del menu menu da polibar configurata una maniera differente ma anche qui avremo lo stesso ambiente e gli stessi pulsanti shortcut per andare a lavorare in comodità e velocemente qui abbiamo un file sh hacker pawn clicchiamo qui e qui vediamo tutto il dettaglio del file che ha creato quindi quello che ci andrà a cambiare nel nostro cali linux se andiamo su ritmi c'è esattamente i passaggi che vanno fatti per andare a installare questa configurazione vedete dice clonatevi questa repo quindi noi ci prendiamo questa ce la copiamo ce la andiamo su un'altra finestra ci abbiamo una console la ingrandiamo un po' e andiamo a fare un git clone della repo di the good hacker diamo enter e lui ci scarica tutto quello che ci serve ora se facciamo un ls-l abbiamo ancora la tastiera che è settata su usa la rimetto su spagnolo facciamo un ls-l vediamo che ci ha tirato fuori la cartella hacker pawn ci ficchiamo in questa cartella facciamo un ls e vediamo che qui abbiamo tutti i file di configurazione quello che ci interessa a noi è questo file qui tra l'altro non dobbiamo nemmeno dargli i permessi perché se vedete è in verde quindi ha già i permessi che gli servono quindi adesso tutto quello che dobbiamo andare a fare è semplicemente andarci a eseguire questo file mi raccomando non fatelo come root fate semplicemente un barra e il nome del file senza sudo e gli date enter e questo adesso comincia la configurazione inizia a installare tutto quello di cui abbiamo bisogno e a fare tutti i vari cambiamenti ci metterà un pochino ci vediamo quando ha finito bene ha finito di fare tutta la configurazione tutte le sue cosine come avete visto ci ha messo un bel po' e ci ha installato moltissimi moltissimi strumenti voi direte che cosa ci ha installato beh tanti tanti strumenti ma ce ne sono alcuni che sono i principali ossia da adesso in poi avremo un ambiente di finestra bs pawn avremo un file per quanto riguarda la configurazione dei shortcut o dei tasti dove lì potremo andare a toccare a personalizzare ad aggiungere togliere qualsiasi tipo di tasto rapido ci ha installato la polybar che è una sorta di modulo che uscirà qui in alto anche quello potremo andarlo a personalizzare ad aggiungere moduli togliere a metterci ciò che vogliamo ci ha installato il rofi che è una sorta di apertura del menu per andare a navigare dentro al nostro sistema ma ci ha installato moltissime altre cose e più avanti le andremo a vedere nel dettaglio andremo a vedere tutto quello che è stato installato andremo a vedere dove si trova e andremo a vedere come fare per personalizzarlo ancora di più se volete in pratica automaticamente ci ha creato tutto l'ambiente che avevamo fatto in quel video di tre ore manualmente ce l'ha rifatto identico però questa volta in maniera automatica quindi fatto questo andiamo a fare un semplice reboot e adesso attenzione qui prima di andare a inserire le credenziali andiamo in alto a destra questo menu e ci deve essere uscito questa opzione l'ABS POM l'andiamo a selezionare ricontrolliamo che è selezionata mettiamo le nostre credenziali entriamo e vediamo che abbiamo già l'ambiente tutto bello fatto e pronto esattamente come quando l'abbiamo fatto manualmente ma questa volta l'abbiamo fatto automatizzato naturalmente la maggior parte di voi adesso che si trova davanti a quest'ambiente di lavoro non sa come utilizzarlo perché? perché se io faccio tasto destro non succede nulla non ho cartelle appunto non ho il tasto destro non ho niente ma è fatto apposta così all'inizio costa un po' abituarsi per imparare i tasti ma una volta che vi abituerete e imparerete i tasti vi renderete conto che sarete come minimo veloci il doppio in tutto quello che fate andiamola a vedere un po' più nel dettaglio dunque abbiamo detto che in cima abbiamo la polybar questa polybar ci dà il nostro IP poi abbiamo questa piccola icona che se ci clicchiamo ci apre appunto il ROFI il ROFI come vi dicevo prima è per andare a cercare qualsiasi cosa nel sistema possiamo farlo anche con Windows D se vedete ci riapre sempre il ROFI qui al centro abbiamo la possibilità di andare a scambiare delle schermate in modo tale che se io in questa schermata apro per esempio con il ROFI gli dico Firefox quindi mi apro un browse posso andare anche a cambiare schermata e ne abbiamo ben 10 credo 3, 6, 9, 10 possiamo anche andare a giocare a spostarci tra queste schermate tenendo premuto il tasto Windows e poi facendo 1 per la schermata 1 2 la schermata 2 3 la schermata 3 e via dicendo in questa polybar poi è stato settato si sono stati settati alcune informazioni come la memoria il livello del volume l'ora la data eccetera eccetera come vi dicevo prima questo è tutto personalizzabile abbiamo anche qui un altro modulo che è il no target questo modulo serve per andare ad inserire l'IP della macchina vittima che stiamo attaccando per esempio su tryacmi su at the box in modo tale che ogni secondo non dobbiamo stare a controllare qual era l'IP della macchina vittima basta che ce lo mettiamo qui sopra per mettercelo qui sopra basta semplicemente andarci ad aprire una console con Windows Enter vedete che in automatico ci apre la console ora finisce la configurazione della power level ed eccola qua se io semplicemente con il comando target gli dico non so 172.0.0.1 e gli do Enter vedete che in automatico mi ha messo qua il target mi ha messo qui l'IP della macchina che devo andare ad attaccare e questa è un'altra delle moltissime cose che ci sono che sono molto molto comode per quello che dobbiamo fare noi quindi per hacking etico per penetration testing come possiamo chiudere questa finestra? la possiamo chiudere con Windows W se andiamo a riaprirci la finestra la console con Windows Enter possiamo anche andare a dividerci la console facendo questa volta CTRL maiuscolo Enter in questo caso con questo comando andiamo a dividerci la console se facciamo CTRL maiuscolo R possiamo andare anche a ridimensionare questa console che abbiamo aperto sotto semplicemente facendo T vedete che possiamo andare a tirarla su la T detoller oppure la S di Shorter per andare ad abbassarla ce la possiamo gestire come vogliamo con sempre Windows W possiamo andare a chiudere tutto se vogliamo aprire più console sempre andiamo a utilizzare Windows e Enter ora ho aperto la prima se vi faccio Windows e Enter me ne apre una a destra e come vi dicevo prima se invece facciamo un CTRL maiuscolo Enter andiamo a dividere la console dove ci troviamo adesso un'altra cosa molto importante è andarci a vedere dove sono queste configurazioni dove stanno piazzate in modo tale che se noi vogliamo andare lì possiamo andare a cambiarle e possiamo andare a personalizzare ancora di più questo ambiente dobbiamo andare nella cartella nascosta config è lì che troveremo tutti i file che ci interessano se facciamo un ls-l ecco qui che ci sono tutti i file di configurazione tra cui lsxhkd quello che dicevamo prima abbiamo il pcom abbiamo la kitty e la cartella bs-pon se noi ci dirigiamo dentro la cartella bs-pon e gli diamo un ls vediamo che abbiamo il bs-pon rc ed è proprio questo quello che ci interessa se ce l'apriamo con nano qui ci sono un sacco di configurazioni per esempio vedete qui ogni volta che si inizia il sistema viene lanciato lsxhkd che è quello che dicevamo prima qui abbiamo settato il wallpaper ossia lo sfondo quindi è da qui che se andate a inserire il vostro sfondo in questa cartella e inserite il nome dello sfondo che volete potete andare a cambiare il vostro sfondo la configurazione il lancio della polybar vedete il lancio sh il pcom che è tutto ciò che riguarda le varie sfumature delle finestre ora da qui possiamo anche uscire e andarci a vedere un altro file molto importante sta sempre nel file config dove stavamo prima eccolo qui e un altro file importante oltre al bs-pon è il file sxhkd quindi ci andiamo a ficcare dentro questa cartella e anche qui troveremo il file di configurazione anche questo lo andiamo a aprire con nano e qui abbiamo tutta quanta la serie di tasti che stiamo utilizzando ora io poi in descrizione vi lascerò quelli che abbiamo visto prima e i più comuni che vengono più utilizzati però in questo file è qui che vengono settati tutti i shortcut per esempio vedete per fare il restart del bs-pon poi abbiamo windows w per andare a chiudere la console insomma qui ci sono settati tutti quanti i tasti tra l'altro abbiamo anche dei tasti rapidi sia per aprire firefox e sia per andarci ad aprire bursuit quindi è molto molto comodo vedete qui abbiamo il tasto per andare a muovere o a ridimensionare il bs-pon quindi la nostra finestra questo è quello che vi dicevo windows più shift più f ci apre il firefox invece windows più shift più b ci apre il bursuit vi ricordo che tutte queste cose le avevamo già fatte nella personalizzazione manuale per esempio questo file l'avevamo creato tutto noi da zero e abbiamo messo più o meno gli stessi identici shortcut perché poi anche nella configurazione che vedremo dopo è la stessa cosa diciamo l'ambiente più professionale che c'è è standard è questo con questi tipi di tasti e questo tipo di ambiente pertanto se andate a modificare questo file potete andare ad aggiungere altri tasti o andarli a cambiare se per esempio non volete aprire firefox con windows shift ma solo con windows togliete shift lasciate super più f vi apre il firefox e via dicendo un altro file che possiamo andare a vedere è per esempio dove c'è la configurazione della polybar eccolo là polybar andiamo nel file polybar facciamo un ls-l ls-l non c'è afficcato dentro il file polybar sì adesso sì e anche qui abbiamo un file di configurazione per andare a cambiare tutto quello che abbiamo qui sopra se per esempio non volete l'orario la data volete mettere qualcos'altro non volete mettere la cpu qui potete cambiare tutto ora non sto a entrare troppo nel dettaglio perché questa è una cosina abbastanza lunga e se volete è già spiegato nel video dove ho fatto la configurazione manuale perché nell'altro video abbiamo creato tutta la polybar da zero abbiamo aggiunto dei moduli fatti da zero e lì potete vedere come fare bene abbiamo visto un po' di cosine e adesso possiamo passare ad andare a fare la seconda configurazione quella dell'altro ragazzo spagnolo anche quella eccellente e come tipi di tasti tutto l'ambiente è identica a questa però vi darà la possibilità di andare a cambiare in vari temi e a una polybar differente quindi torniamo al nostro Kali di default e aggiornato e andiamo a fare la seconda configurazione torniamo alla nostra macchina virtuale e ci andiamo a riprendere lo snapshot che abbiamo fatto all'inizio ve lo ricordate ed era questo Kali aggiornato gli diamo goto facciamo yes e adesso lui ci ristabilisce esattamente il Kali come era quando abbiamo salvato l'immagine quindi ce l'abbiamo un'altra volta di default però già aggiornato e possiamo andare a lavorare a installare la seconda configurazione aspettiamo che fa le sue cosine e poi ci rivediamo ok ingrandiamo un po' e ce ne andiamo alla seconda repo quella che dicevamo dell'altro ragazzo spagnolo che ha fatto un lavoro eccellente ZL Cube questa qui e questa a differenza della precedente è sempre un BS Pound abbiamo sempre gli stessi shortcut lo stesso ambiente di lavoro però ci dà la possibilità di fare l'installazione sia su Parrot che su Kali e in più vedete ci darà un menu con vari temi Pacman Parrot Savi e altri che possiamo andare a vedere e a scegliere qua sotto e come vi dicevo prima se oggi volete utilizzare questo domani vi siete stufati volete cambiare a questo lo potete fare o ancora meglio andare a personalizzarlo come ho fatto io e a fine video vi farò vedere quali sono le personalizzazioni e i temi che io utilizzo di più comunque anche qui vedete abbiamo la descrizione dei tasti che sono esattamente quelli che vi ho fatto vedere prima comunque vi lascerò in descrizione in italiano la descrizione dei tasti e c'è scritto quello che dobbiamo andare a fare per andarci a installare in maniera automatica anche questa configurazione vedete un git clone di questa repo quindi torniamo alla nostra console diamo una pulita e andiamo a fare come ci diceva nelle istruzioni un git clone di questa repo ok facciamo un ls meno l un'altra volta la tastiera non è in spagnolo la rimettiamo sempre col solito comando vi ricordo che se voi la volete mettere in italiano dovete mettere it al posto di es quindi facciamo un ls meno l e qui troviamo il file che abbiamo scaricato ci ficchiamo qua dentro e troviamo tutti i file di installazione qui abbiamo l'auto install sh anche questo già con i permessi che vedete che è in verde e possiamo andare a utilizzare esattamente questo quindi basta che gli diamo uno slash auto install punto sh gli diamo enter e lui subito ci richiede dove la puoi fare questa installazione su Kali Linux o su Parrot beh in questo caso siamo su Kali quindi gli do uno gli do enter e lui comincia non vi preoccupate per tutti questi warning e in più adesso che vi esce questa finestra per selezionare un'opzione come scritto da istruzioni lasciatela stare la andiamo a toccare dopo gli diamo la password e lui comincia a fare le sue cosine ci vediamo quando ha finito ha finito le sue cosine e adesso ci troviamo davanti alla schermata come questa volevo dirvi che se durante la configurazione vedete che magari si blocca in qualche punto spingete enter più volte comunque adesso che siamo davanti a questa schermata dove ci dice di selezionare il tema che vogliamo ci riprendiamo la finestra che avevamo messo da parte prima e ci andiamo a scegliere un tema per esempio qui ne abbiamo svariati io scelgo Parrot faccio ok e lui ci apre il rofi qui abbiamo la possibilità di scegliere anche il tema del rofi possiamo andare giù con le freccette e se gli diamo enter ci fa vedere il tipo di tema vedete lo stiamo cambiando una volta che avete scelto quale tema andare a scegliere andare a selezionare vedete qui c'è scritto spingere alt a per selezionarla quindi fate alt a e lui in automatico si riavvia adesso che si è riavviato come abbiamo fatto nell'altra configurazione andiamo qui e andiamo a scegliere l'opzione bspone ricontrolliamo che sia settata mettiamo le nostre credenziali ed eccoci qui nello stesso ambiente di lavoro con lo stesso bspone e gli stessi shortcut che avevamo nell'altra configurazione però con un tema differente se vediamo la polybar ha dei moduli differenti anche qui abbiamo dei spazi di lavoro 10 abbiamo però settato qui l'ip della macchina vittima abbiamo qui il nostro ip quando ci connettiamo alla vpn il nostro ip di default il giorno e l'ora anche qui stessa storia windows enter abbiamo una console se adesso finisce di fare la configurazione del power level ecco qua se facciamo un altro windows enter abbiamo un'altra console oppure se vogliamo dividerla facciamo un control maiuscolo enter e via dicendo i stessi identici tasti e la stessa identica configurazione che abbiamo fatto precedentemente però con un tema differente e questa configurazione è proprio qui il punto possiamo andare a cambiare la configurazione dove lo facciamo? beh lo facciamo nel file auto bspun se andiamo a fare un ls qui vediamo che abbiamo la cartella teams e qui abbiamo il file teams team sh andiamo ad avviare questo file con fatemi rimettere la tastiera in spagnolo ok andiamo ad avviarci questo file team sh e in automatico ci da un errore riavviamolo ok in automatico ci apre un'altra volta il menu delle varie configurazioni se per esempio questa volta utilizziamo pacman diamo enter gli diamo la password ci richiede un'altra volta di selezionare quale rofi vogliamo andare a utilizzare selezionamone uno a caso gli diamo alt a lui si riavvia mettiamo le credenziali e voilà abbiamo cambiato ancora una volta la configurazione di interfaccia questa volta abbiamo i pacman molto carini qua ebbene facendo in questa maniera potete andare a provare le 3-4 configurazioni che sono presenti o 5 adesso non mi ricordo e andare a scegliere quella che volete successivamente andando a toccare il file bs boom rc o l'altro per i tasti andare a personalizzare ancora di più questa configurazione cambiare lo sfondo aggiungere moduli sulla polybar aggiungere o togliere o modificare shortcut e quant'altro io l'ho già fatto per alcune configurazioni e adesso ve le faccio vedere andiamo sulla mia macchina virtuale sono queste 4 qui diciamo quella che utilizzo più di tutte naturalmente chi mi segue lo sa è Parrot questa è una configurazione fatta su Parrot l'abbiamo fatta insieme totalmente manuale è quella con il quale mi trovo meglio e che ho visto che alla fine è la più fluida appunto perché è stata fatta manualmente e siamo andati a toccare nei minimi dettagli ogni singolo file eccola qua la conoscete già anche questa ha gli stessi shortcut che abbiamo utilizzato per aprire la console per dividerla per aprire il rofi e quant'altro andiamo a vedere la seconda configurazione che utilizzo la seconda configurazione che utilizzo di più è la Kali Linux ed è esattamente quella che abbiamo appena fatto del ragazzo spagnolo ZL Cube ho selezionato il tema giallo per capirci quello di Parrot e l'ho un pochino più personalizzato mettendo il mio sfondo e mettendo qualche cosina in più come NeoVim e altri strumenti che andremo a vedere in un altro video altra configurazione che vado a utilizzare quella dell'altro ragazzo The Good Hacker quella che abbiamo visto la rossa che è sempre un Kali Linux ed è quella la prima configurazione che abbiamo fatto anche quella l'ho personalizzata un pochino ho cambiato lo sfondo e ho aggiunto dei strumenti che mancavano ripeto quegli strumenti che mancavano come NeoVim e altre cosine Flameshot che utilizziamo durante i video poi quindi a parte che l'abbiamo già visti durante l'installazione manuale però andremo a fare un video dedicato soprattutto sul NeoVim perché adesso stiamo facendo il corso di Python Offensive e utilizzeremo moltissimo NeoVim come vedete la Polybar è quella del ragazzo spagnolo The Good Hacker ed è la sua configurazione ho semplicemente cambiato lo sfondo e anche qui abbiamo sempre gli stessi tipi di tasti per fare tutte le nostre cosine ultima configurazione che utilizzo molto la Kali XFCE4 questa l'ho fatta qualche mese fa diciamo che è una configurazione un po' differente dalle altre non ha tutte le cose che hanno le altre configurazioni quindi shortcut eccetera è un ambiente di lavoro differente abbiamo anche un menu adesso lo vedete è un diciamo una configurazione un po' più tranquilla ed eccola qua l'avevo utilizzata non ricordo per fare quale video e qui abbiamo il diciamo non abbiamo una Polybar abbiamo il menu che è stato l'ho personalizzato anche qui abbiamo degli ambienti di lavoro abbiamo possiamo aprire il terminale da qui abbiamo la CPU abbiamo l'orario il volume eccetera eccetera qui abbiamo anche per andare a spengere tutto bene ragazzi spero che questo video vi sia stato utile adesso potete andare a crearvi in 5 minuti o poco più un ambiente professionale per lavorare come hacking edico e penetration testing il prossimo video di personalizzazione lo faremo su Arch Linux faremo tutta l'installazione di Arch Linux e poi faremo una bella personalizzazione anche là mi raccomando se avete problemi durante la configurazione lasciate nei commenti quello che vi è successo oppure venite nel nostro Discord abbiamo una bella community di quasi 800 persone dove tutti si aiutano e tutti studiano insieme però per questo video è tutto ci vediamo al prossimo un saluto a tutti a tutti a tutti a tutti a tutti Grazie a tutti.